E siamo al consueto appuntamento del sabato con il Tg itinerante che oggi con Pasquale Piscitelli ci porta a Mondragone. Pasquale, a te la linea. Con la tarantella del gruppo Mani in Mani, ragazzini che ballano questa tradizione tutta partenopea e con l'aiuto del gruppo Mazzonari che portano in giro la tradizione equestra e buon pomeriggio a voi tutti dal Parco Museo Fuffo di Mondragone una scommessa vinta di due imprenditori che hanno puntato sull'amico di sempre, l'amico a quattro zampe, il cane. Primo esperimento in Italia e anche in Europa. Ma per sapere cosa è stato Mondragone e cosa sarà Mondragone prego la regia di mettere in onda il contributo. Situata al centro di quattro città preromane, la colonia di Sinuessa, Minturnes e Saurunca, Volturnum, oggi Mondragone è una città archeologica a tutto campo. 450 siti in un esteso perimetro, tante bellezze tra le quali Rocca Montis Dragonis, città medievale fortificata, un centro comitale per l'epoca. Una campagna di scavo dottore in corso sta portando alla luce tante novità. Dalla Rocca alla valle, le Domus Romane, parte dell'Appia Antica e poi i resti del castello del principe Pandolfo I Capo di Ferro che lo edificò come bagno termale dedicato alla moglie Alohara. Altra particolarità, da Mondragone il vino Falernum era trasportato in anforo nel Mediterraneo Antico, grazie a Cericia Victrix, donna romana del primo secolo d.C. che si arricchì con tale commercio. La storia di Mondragone è conservata nel Museo Biagio Greco, luogo di interesse internazionale per archeologi e visitatori comuni. Tra le numerose sezioni, quella dedicata alla pre-storia, testimonianze provenienti dalla Roccia di San Sebastiano. Dall'anno 1000 le chiese, il monastero di Sant'Anna a Monte, una parte in rovina e l'altra ristrutturata nel 2000, gli altri luoghi di culto e di interesse storico in città, il quartiere medievale, il palazzo ducale attualmente in corso di restauro, Mondragone città turistica e sportiva, entro l'anno il nuovo palazzetto multidisciplinare, ma anche la città del mare ritrovato. Ed infine, altro gioiello di livello europeo, il Museo Parco Fuff, dedicato agli amici a quattro zampe, un volano economico per il territorio. Attenzione, 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 eccoci qui di nuovo in diretta dal Museo Fuffo, Parco Museo, primo in Italia e primo in Europa. C'è un grande potenziale qui a Mondragone, Mondragone archeologica, Mondragone preistorica, ma si attende il Parco archeologico, a che punto è? E' a buon punto, anzi sono contentissimo di questa occasione per affermare una cosa certa ormai, che il Sindaco e l'assessore al Museo hanno annunciato che ci sarà a breve un discorso, un ragionamento proprio per lanciare il Parco archeologico del Castello. Noi sono anni che siamo impegnati con gli scavi, abbiamo avuto dei risultati veramente forti, belli, interessanti, e anzi è un invito a tutti a visitare questo magnifico museo che si trova nella campagna settentrionale. Grazie, non solo ovviamente beni archeologici, ma c'è anche un altro bene, un grande volano, quello della costa, il mare. Cosa sta facendo l'amministrazione comunale per trasformare Mondragone in città turistica? La riqualificazione dell'offerta turistica di Mondragone passa attraverso l'attenzione al mare, il recupero della piena balneabilità, l'attenzione alla nostra storia, quindi il recupero dell'identità cittadina attraverso la valorizzazione dei palazzi storici e del centro storico e una forte attenzione meritata da parte dell'agricoltura, un volano del nostro territorio che ha necessità e bisogno di far camminare a fianco le istituzioni pubbliche agli imprenditori agricoli che troppe volte sono stati abbandonati e che oggi stanno investendo tanto per difendere questa terra ed hanno ragione e noi siamo al loro fianco. Bene, un investimento che arriverà anche da un progetto ambizioso, progetto Bandiera Blu, per i 40 chilometri di costa a Casertaneo non solo, una grande opportunità per visto le 400 imprese, numerosi alberghi che insistono sul territorio? Sicuramente, questo è uno degli impegni più grandi che anche a fronte di un impianto di depurazione che è uno dei più grossi d'Europa, ha visto impegnati i capitali che non sono veramente grandi per poter riprendere e rilanciare la costa ripartendo dalla balneabilità, quindi è un punto sul quale penso che a breve, già i risultati degli ultimi anni sono stati molto brillanti, immaginiamo che nei prossimi due anni la questione si completi con l'ultimazione di questi lavori. Oltre a questo stiamo rilanciando l'intera costa con un piano di mini tour che partiranno direttamente dalle spiagge per far sì che la popolazione conosca le rilevanze archeologiche e turistiche che investono completamente l'intero territorio, sia casertano che napoletano. Quindi attendiamo questa grande riqualificazione di tutto il litorale ma anche della parte interna del casertano. Però ovviamente qui ci troviamo a casa dell'amica a quattro zampe di sempre, il cane, c'è qui un imprenditore che ha puntato sul territorio, ci ha creduto e questo museo parco ha avuto una serie di riconoscimenti con progetti anche futuri, quali? Allora un anno e mezzo di apertura abbiamo avuto oltre ai tanti visitatori un riconoscimento sia dagli operatori del settore, siamo stati premiati alcune settimane fa dall'Associazione Nazionale Musei Italiani e dall'Università di Torino come tra i sei musei più innovativi d'Italia. Inoltre qualche giorno fa c'è arrivato anche il riconoscimento da TripAdvisor, quindi da visitatori che ci hanno premiato con il certificato d'eccellenza quindi abbiamo avuto questo ulteriore riconoscimento. Noi come museo stiamo impegnati, al di là del museo, anche sul territorio abbiamo fatto un premio che diamo agli operatori, amici dei cani. Il vostro è una realtà del territorio ma anche per il territorio? Sì, in questo senso abbiamo invitato, visto che i tanti turisti che arrivano al museo del cane chiedono strutture che possono ospitare cani, dai ristoranti ai lidi, strutture ricettive e qui non ce n'erano sul territorio, noi abbiamo pensato a questo premio quindi abbiamo dato un premio proprio al Presidente di Asso Balnearica che ha organizzato il primo lido del litorale che può ospitare cani. Grazie, e adesso ci troviamo a quello che è la cultura del palato, del gusto su questa tavolata tutte le eccellenze enogastronomiche, grazie anche a Gricerti, l'Associazione Agricola Campana che raggruppa oltre 100 imprenditori, vedete i fagioli, la mozzarella della zona dei Mazzoni e poi il pane, tutto qui, e poi in modo particolare c'è l'archeo cucina c'è un'antica pietanza, ecco, se viene qui velocemente, ecco, lei si chiama? Mario Cardilla Mario Cardilla, allora, archio cibo, che cos'è questo? Praticamente questo è un caso conciato che facevano anche per trasportarlo per tenerselo con loro nelle loro escursioni pure, è fatto con del cacio aromatizzato con delle mandorle, delle erbette e con degli aceti al peperoncino e al pepe. Ecco, questo ricorda un po' l'antica sinuessa, poi c'è un'altra pietanza molto semplice. Abbiamo pettola e ceci, che praticamente è una pasta fatta con acqua e farina e dei ceci cotti a pignato, e poi abbiamo dei broccoli fatti con del pane e aromatizzati con un burro fatto crudo che si chiama il burro della pagliara. Grazie, ovviamente attenzione anche ai nostri amici di sempre, i cagnolini, si può cucinare anche per loro in modo semplice, economico e anche salutare. Qui tante ciotole, che si tratta? Cosa avete cucinato? Sì, quello che abbiamo pensato di proporre è un gelato, sembra un'umanizzazione ma non lo è perché è un gelato fatto con alimenti salubri per il cane come lo yogurt bianco, un pizzico di miele, mela detorsolata e senza semi, così si appaga l'umano ma anche il cane. Grazie, ecco, quindi appagati sia l'umano che il cane e con questo è tutto dal Museo Fuffo, il Museo Parco del Cane, ecco, con un dragone ritrovato vi ridò la linea. Grazie.